E benvenuti a questa serata, serata musicale, in onore dei nostri amici musicisti della Filarmonica di Rienz, dal Belgio e dalla città di Casperia, Rieti. Buongiorno, la Filarmonica vinovese Giuseppe Verdi, benvenuti a questo evento musicale organizzato per i nostri amici che vengono da Rienz, dal Belgio e dalla città di Casperia e i loro gruppi di Filarmonica. Faremo un omaggio a Ennio Morriconte. Signori, la Filarmonica vinovese Giuseppe Verdi, diretta dal Maestro Roberto Rizzo, in Moment for Morricone. With a point to Ennio Morricone, we listen Moment for Morricone, by Filarmonica Giuseppe Verdi of Vinovo, conducted by Maestro Roberto Rizzo. Grazie a tutti. 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 a tutti.